Ha visto cambiare questo paese o no? Come vive questa? Diciamo che è morto ora, momentaneamente. Siamo a Lappola, una piccola frazione del comune di Chiusi della Verna, nel ridente casentino in provincia di Arezzo. Qui gli abitanti sono circa 35 e dall'agosto 2015 convivono con 19 richiedenti asilo. Sono sistemati tutti in questa palazzina di proprietà privata e la loro accoglienza è gestita dalla cooperativa Arca Etrusca. Non è una questione di razza con loro, non c'è nessun problema a doversi parlare. Il problema è che purtroppo qua non c'è niente e non avrebbero nessuna possibilità di essere integrati in qualche modo. Non è che fanno niente a me, per carità, ma quante se ne sente dire? Cioè come faccio io a partire da sola e andare a camminare la mattina o che ne so io? Non si fa più. Non è la prima volta che gli abitanti di Lappola chiedono di ridimensionare il numero di migranti, ma per il momento un nulla di fatto, 19 erano e 19 sono rimasti. La legge prevede che ne siano ospitati 2,5 ogni 1000 abitanti e qui siamo dunque fuori parametro. E' un numero sproporzionato rispetto ai residenti, poi sono persone che vanno in bicicletta, non sanno andare in bicicletta, anche di notte, è un paese morto e praticamente è cambiato totalmente. Le buste del bando emanato dalla prefettura verranno aperte il prossimo 31 marzo e gli abitanti di Lappola sperano in una riduzione di questa presenza. Vedi poi quello che non fa piacere alla gente, io ho deciso di aver capito così, che ci sono questi 20 ragazzi, chiamiamoli ragazzi, ci sono anche un pochino più grandi qualcuno dei ragazzi, che stanno senza fare niente la mattina e la sera, col telefonino, con le cuffie, sentire la musica, con tutti vestiti da fichetti, vanno in giro, mentre da noi ci sono persone che magari avrebbero bisogno di lavorare, non prendono nemmeno una lira e questi invece vengono mantenuti a fare signorini. Questa io penso sia la cosa che dà più fastidio al paese.